Nella casa del grande fratello la tensione è alle stelle, Perla è in finale, ma non mancano le sorprese. Beatrice e Varrese hanno pronunciato parole che hanno scatenato polemiche tra i fan di Perla. Hanno discusso apertamente, mettendo in discussione il motivo della sua presenza in finale. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille. Le loro critiche suggeriscono che il successo di Perla potrebbe essere messo in dubbio, ipotizzando che il televoto sia stato influenzato da fattori esterni. Hanno persino insinuato che Perla non stesse gareggiando da sola, accusandola di avere un vantaggio ingiusto grazie al supporto di Mirko Brunetti. Queste dichiarazioni sollevano dubbi sull'integrità della competizione e sul sistema di voto. Ci chiediamo se queste dinamiche influenzeranno l'esito finale del grande fratello. Anche se Beatrice era una delle favorite, l'esito rimane incerto, con potenziali sorprese in arrivo. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e inoltre vi ricordiamo un piccolo supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille.